Ciao Lucia, oggi affrontiamo l'argomento campione come richiesto da alcuni di voi. Tra le domande più frequenti che mi vengono poste c'è proprio quella del tipo con quante catenelle inizio questo determinato progetto, come parto con quest'altro progetto e magari sono progetti miei effettivamente però magari partendo con taglie diverse, filati diversi e uncinetti diversi. E io ovviamente non ho una risposta per tutti, in quanto se non ho fatto quella taglia con quel filato e quell'uncinetto non posso sapere con quante catenelle consigliarvi di partire. Posso dirvi magari la misura perché ci sono delle tabelle online che ci dicono quant'è magari la circonferenza per una certa età o per una certa taglia di testa, bacino, spalle o quant'altro. Però rimane comunque una questione di misure e non posso dirvi con quante catenelle partire. E quindi io vorrei darvi mezzi per calcolare da sole con quante catenelle partire. E quindi ho fatto un campioncino. Allora, vicino un attimino, eccoci qua, eccoci qua. Allora, io qui ho fatto un campioncino, sono solo dieci maglie per tre giri, quindi una cosa piccolissima, ma giusto per farvi capire. Allora, le mie dieci maglie misurano nove centimetri. Quindi vi faccio vedere così, vi faccio vedere la fedeltà delle mie parole. Ecco qua, sono dieci centimetri, perfetti. E ovviamente io misurerò il mio campione sempre al centro della lavorazione, quindi né nell'ultimo giro né nel primo. Nel primo perché le catenelle tirano. E per quanto le si lasciano morbide, comunque tendono sempre a tirare all'inizio del lavoro e quindi non avreste la misura giusta che vi serve. Per fare poi i calcoli per il campione. Altra cosa da dire è che voi per fare il campione dovrete usare l'uncinetto che decidete di usare per il vostro progetto, il filato che decidete di usare per il vostro progetto ed il punto esatto che decidete di usare per il vostro progetto. Quindi, se dovesse essere un traforato o un pieno come queste semplici maglie alte, non importa. Misurerete dieci o più maglie. In effetti dieci maglie è solo per dare una misura tonda, ma potete farlo anche su due maglie, perché comunque prenderete la misura in centimetri. Quindi non è importante quante siano le maglie quanto appunto il calcolo che andiamo a fare a breve. Un altro consiglio è quello di fare riposare il campione. Questo è un consiglio che mi dava sempre mia mamma e che in effetti io non sempre metto in pratica. Però, per avere maggior fedeltà e una maggiore certezza che il vostro campione poi corrisponda alle misure che vi servono, che vi servono, scusate, sarebbe bene farlo riposare. Quindi magari avete già intenzione di iniziare un progetto ma ne state finendo un altro, iniziate a farvi il campione, finite il progetto precedente e poi lasciate lì nel dimenticatoio il campione. Lo misurate dopo un po' di tempo, che può essere da qualche ora, qualche giorno, non importa. L'importante è che lo lasciate riposare un attimino. Questo perché? Perché i filati tendono a allentare riposando e quindi potete avere un campione più certo. non è assolutamente una cosa necessaria. Però siccome a volte mi capita di sentir dire ma io il campione l'ho fatto ma mi è grande il progetto che ho fatto. Quindi magari ho una maglia o uno scaldacollo o un cappello o qualsiasi cosa e mi dite, cavolo, io il progetto l'ho fatto ma è lo stesso grande. è perché magari il progetto è stato preso, il campione è stato fatto ma è stato preso magari vicino alla catenella e quindi risultava più stretto, magari non ha riposato e riposando quel determinato filato lascia andare, non tutti lo fanno ma alcuni filati lasciano andare. e quindi io consiglio comunque di lasciare riposare il campione. Ora passiamo proprio alla fase pratica. La fase pratica è questa. Quindi io ho calcolato, ho misurato e so che le mie dieci maglie misurano nove centimetri. Che cosa faccio? Allora, io ho già fatto il calcolo e ve lo faccio vedere. Allora, queste sono i centimetri del mio campione. Queste sono le maglie del mio campione. Se io divido i centimetri per le maglie mi viene fuori una nuova misura che è la misura di ogni singola maglia. In questo caso per il mio filato lavorato col mio uncinetto è di 0,9 centimetri. Ora, io il mio progetto ipoteticamente lo devo fare lungo, quindi ho bisogno di avere 30 centimetri per il mio progetto. Faccio la stessa menesima operazione che ho fatto per calcolare la singola maglia. Cosa faccio? Ho, quindi, i centimetri saranno il primo numero che noi scriveremo su carta. Sarà sempre una divisione. Questa volta, invece di dividere per il numero di maglie, divideremo per una singola maglia. E questa è la misura che abbiamo ricavato per ogni singola maglia. L'operazione andrà a risultare 33,3 periodico. In questo caso, io ho arrotondato a 34. Significa che io dovrò fare 34 catenelle per avere 30 centimetri. E io, per farvene avere la prova, ho semplicemente fatto un campione di nuovo, ecco qua, con 34 maglie. Ovviamente non misurerò la prima riga. Voi non dovete farlo, è solo per farvi vedere che torna, che questo calcolo è veritiero. È solo per dimostrazione, perché non dovete assolutamente farlo. Vedete? Allora, aspettate che io sposto. 30 centimetri. Se io lo misurerò da qua, è tirato e quindi non misurerà 30 centimetri, ma poi sopra misurerà esattamente 30 centimetri. Perché io ho fatto 34 catenelle facendo questo calcolo e il mio campione è di 30 centimetri. Quindi non dovete fare due campioni, questo qua è proprio solo... è come se voi iniziaste il vostro progetto e fosse questa la misura che vi serve. Quindi io ho fatto solo un campione per farvi vedere che facendo questo calcolo esce esattamente la misura calcolata proprio in questo modo. Quindi, bello ricapitolo giusto per essere più chiara possibile. La prima misura sono i centimetri del nostro campione. La seconda misura, quindi, andremo a dividere per il numero di maglie del nostro campione ed otterremo la misura di una singola maglia del nostro campione. Ora, se noi sappiamo che, per esempio, per un cappellino bimbo piccolo faccio un esempio ho bisogno di 30 centimetri per la sua circonferenza che cosa faccio? So quanto misura una maglia andrò a dividere i 30 centimetri per ogni singola maglia e il risultato sarà questo che saranno le catenelle che dovrò fare per iniziare il mio progetto per poi avere i miei 30 centimetri. Quindi, vedete, sono solo due divisioni. La prima cifra sono sempre i centimetri la seconda cifra sono sempre le maglie in questo caso è il numero di maglie in questo caso, invece, è la singola maglia in centimetri. Quindi, veramente, il calcolo è di una semplicità estrema ma non potete assolutamente sbagliare. Io spero, spero che sia stato chiaro il mio mini tutorial per il campione. Spero che sia stato utile e a questo punto, ragazzi, io vi auguro buon campione e fatelo sempre, mi raccomando. fate sempre il campione perché così avrete dei capi oltre che belli e fantasiosi anche della taglia giusta. Un bacione da Lucia ciao ciao spero che vi sia piaciuto questo tutorial e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!